Oggi ero convinta che saremmo arrivati al finale e che avremmo battuto la Francia perché anche in allenamento stiamo facendo un grandissimo lavoro e siamo una vera squadra siamo venite, quando manca una c'è un'altra e io lo dico sempre, mi sento tranquilla anche nei momenti più di tensione perché so che ho sempre la fiducia dei miei compagni Ecco, poi la scherma italiana è un po' particolare perché quando si vince la medaglia di bronzo si pensa, beh, potevamo combattere per loro Quello lo lasciamo come prossimo step, tra un mese per un appuntamento importante e arriveremo con la fame giusta a Milano per magari chissà ambire quella medaglia che come diceva Rossella, ci stiamo guadagnando giorno per giorno, allenamento dopo allenamento inizio dopo fine, dopo gara squadra e dopo un sacco di preparazioni che facciamo anche condividendola insieme La costanza ci preverà